In questi giorni sono arrivate notizie di come tanta gente comincia a preoccuparsi di un modo più generale per gli altri e pensano alle famiglie che non hanno il sufficiente per vivere, agli anziani soli, agli ammalati in ospedale e pregano e cercano di far arrivare qualche aiuto. Questo è un buon segnale e ringraziamo il Signore perché suscita nel cuore dei Suoi fedeli questi sentimenti.